La domanda principale è questa. Come trasformare la figura del classico agente immobiliare in un professionista che genera un vantaggio per chi vende casa? Questa è la domanda e questo video ti darà le risposte. Io sono Andrea Unali e benvenuto all'Alleato per chi vende casa. Oggi è Franco a pormi una domanda particolare che oltre a lui sicuramente sono fatta in tanti. Franco mi dice, ho capito che avete deciso di seguire solo una delle due parti nella vendita. I vostri unici clienti sono i proprietari di casa e i risultati che ottenete per loro sono sotto gli occhi di tutti. Ma con gli acquirenti invece come vi comportate? Li abbandonate? Beh Franco, questa domanda è davvero interessante. Ma non sono io a rispondere. Faccio rispondere direttamente alcuni tra gli acquirenti che hanno acquistato un immobile con noi. Parto da Andrea Casadio. Scrive, prima dell'esperienza con Andrea ero dell'idea che le agenzie immobiliari fossero costituite per di più dei prenditori provvisati. Troppe esperienze negative, tra mancanze di professionalità, difficoltà a reperire le più semplici informazioni, continui solleciti telefonici, lungaggini di ogni tipo. In questa agenzia non solo hanno capito come si vende una casa, ma anche come vendere un servizio. Per di più, da acquirente non ho pagato nessuna spesa. Non posso che suggerirlo e dare il massimo punteggio. Andrea ovviamente non è l'unico. Senti cosa pensa Antonello Serrao, un acquirente che cercava casa da due anni e con noi in una settimana ha trovato l'immobile dei suoi sogni. L'incontro con Andrea è stata una svolta in tutto e per tutto. Possiamo dire di aver trovato una famiglia. Abbiamo ricevuto consigli e supporto, in toto, da parte di persone esperte e oneste, che del loro lavoro hanno fatto una missione e sapete bene che in questo mondo non è tutto oro ciò che lucica. Ma è con Claudia Sirgo che intendo concludere questo intervento. Queste sono le sue parole. È impossibile trovare parole che possano trasmettere pienamente la positività del mio incontro con Andrea, Stefania, Francesco e Eleonora. Difficile esprimere in poche righe tanta serietà, professionalità e puntualità. Competenze unite a correttezza, gentilezza e onestà. Non solo agli alleati di chi vende casa, ma anche ineguagliabile supporto per chi acquista. Senza dubbio i migliori. Franco, se non avessi menzionato prima il fatto che queste parole provengono tutte da acquirenti, probabilmente avresti pensato che erano pensieri lasciati dai clienti proprietari. E invece no. Pensa, nessuno di loro ha ottenuto il ribasso del prezzo. Anzi, è vero, noi abbiamo deciso di lavorare in maniera esclusiva per chi vende casa. Ma lo facciamo in un modo che, di riflesso, porta benefici, garanzie e qualità anche per chi acquista. Non ci credi? Ti posso fare tanti esempi in questo senso. Prima di tutto selezioniamo solo i mobili vendibili, e che quindi sono in regola sotto tutti i punti di vista, ma non solo questo. Mettiamo ogni acquirente che partecipa all'open house nelle migliori condizioni per decidere se quale è la casa che sta cercando. Non deve pregarci o fare infinite chiamate per avere informazioni e documenti, ma durante l'open house forniamo già tutta la documentazione in nostro possesso. Infine, dopo l'accettazione della proposta, siamo sempre a completa disposizione sia del venditore che dell'acquirente. Non a caso viene menzionata spesso dai nostri acquirenti la parola supporto. Accompagniamo infatti entrambe le parti per tutta la durata di questo emozionante percorso fino alla fase finale, quella del roggito. Allora Franco, ti sembrerà che i nostri acquirenti ricevano un trattamento così spiacevole? L'alleato per chi vende casa, alla prossima!